Lo spionaggio tra amici è inammissibile, è netta la reazione di Angela Merkel alle presunte intercettazioni da parte dell'alleato statunitense. La vicenda assume dimensioni europee ed è destinata a occupare l'agenda del Vertice D28 a Bruxelles. Da quando si parla dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale statunitense, io ho sempre detto al Presidente degli Stati Uniti, non si possono spiare gli amici. Gliel'ho detto a giugno quando è venuto a Berlino e anche ieri al telefono e l'ho fatto per i cittadini tedeschi. Non si tratta di me ma soprattutto dei cittadini. Occorre fiducia tra alleati e partner. Dopo aver chiamato Barack Obama che le ha assicurato di non aver fatto intercettare le sue comunicazioni telefoniche, la cancelliera tedesca ha fatto convocare l'ambasciatore statunitense a Berlino. Il ruolo della NSA apre un dibattito tra i partner europei anche se la sicurezza è una questione di competenza nazionale. Alcuni stati potrebbero insistere sull'adozione del testo della Commissione europea sul rafforzamento della protezione dei dati personali. Grazie.